Maghi, occultisti, stregoni, sono figure un po' particolari, figure che ogni tanto punteggiano la storia umana, lasciando delle tracce colme di punti interrogativi. Dov'è la vera magia? Dove finisce la magia e dove inizia la taltroneria? Fin dove ci si può spingere a credere a determinate manifestazioni del paranormale o dell'occulto? E quando invece si tratta di personaggi in realtà dotati di ottime informazioni, abili a travestire tutto quanto con delle scenografie teatrali? Belle domande, no? Ecco, domande che riguardano anche il nostro amico, il protagonista di Occhi, un uomo che ha segnato nella sua esistenza un capitolo preciso della storia contemporane. È stato definito il mago di Hitler o semplicemente il suo occultista preferito. Eppure, eppure quest'uomo, quest'uomo dal nome falso, dal nome modificato, dalla carriera tutt'altro che esemplare, con troppe domande sul proprio conto, ha lasciato dietro di sé una scia di dubbi, anche di sangue, di debiti, non solo di gioco, e di domande senza risposta. Oggi parliamo appunto del mago di Hitler, di Erik Jan Anusser. A proposito di domande, vi siete mai domandati come faccia un antisemita dichiarato a frequentare un ebreo? Ecco, scommetto che molti di voi non riusciranno a rispondere. Perché, se di Hitler ormai sappiamo davvero tutto, lo sapevate che il suo occultista preferito, Anusser, era in realtà ebreo? Non si chiamava Anusser, non si chiamava Erik Jan, nomi e cognomi che rimandano alla Danimarca. Non era danese, non era nemmeno tedesco. Era un ebreo vennese, di nome Heim Steinscheider, Heim Steinscheider, nato da una relazione non regolare tra due ebrei, la madre di ottima famiglia, il padre un artista spiantato, cresciuto tra Vienna e l'attuale Romania, poi in fuga dalla casa paterna dopo la morte della madre, e destinato a una carriera che potremmo definire abbastanza singolare. Nel corso della Grande Guerra, il futuro Anusser combatte sul fronte orientale, combatte a Shemijel, a Zamosh, poi verso la fine della guerra viene spostato per la sua unità a Sarajevo, si congeda, torna a casa, e da quel momento in avanti cambia radicalmente carriera. Cambia anche il nome. Decise di affrancarsi da quell'eredità ebraica, forse un po' scomoda, per diventare un cosmopolita, con un nome completamente nuovo. È una carriera rifatta da capo. Un cosmopolita della vita piuttosto turbolenta, pensiamo ad esempio che ebbe la bellezza di tre matrimoni, uno di questi gli fruttò una vera e propria fortuna, in termini eponomici, e che arrivò anche a rinnegare la propria fede ebraica, al punto di convertirsi al cristianesimo protestante di stampo luterano. Ma questi sono piccoli dettagli. Quello che a noi interessa è la carriera di Anusser, che trascorre gli anni venti girovagando per l'Europa. Grecia, Turchia, Ungheria, Siria, in Palestina, ma anche a Rodi, a Creta, in Lituania. Lo si vede un po' ovunque. E cosa fa Anusser? Tiene spettacoli di occultismo, tiene spettacoli di paragnosticismo, di psicosi, di massa, oppure, a volte, si propone come detective del paranormale. La sua fama diventa sempre più ampia dopo aver collaborato con la polizia austriaca e quella tedesca nel risolvere alcuni casi di omicidio. È qui che nasce la leggenda di Anusser come paragnosta, come uomo dell'occulto del paranormale, come sensitivo. Ma anche qui noi ci poniamo un piccolo interrogativo. Quelle di Anusser erano percezioni extrasensoriali basate sull'ultretomba e sul paranormale o erano semplicemente delle messe in scena ben orchestrate dovute a una profonda conoscenza del sottobosco criminale. Effettivamente queste domande non ce le poniamo solo noi. Se le erano poste anche alcuni governanti dell'epoca. Ad esempio, abbiamo parlato di Rodi. Anusser a metà anni venti voleva tenere un suo spettacolo nell'isola greca. Gli venne impedito al punto che non fu possibile per lui sbarcare dalla nave per andare al teatro ad esibirsi. A Creta, una sua esibizione in teatro, provo con l'intervento della polizia per evitare il linciaggio. A Kleibeda, quella che all'epoca si chiamava Memel e che poi fu annessa al Reich tedesco, venne addirittura cacciato dalla città con foglio di via. Assurdo, vero? Come mai questi comportamenti ostracizzanti nei confronti di quello che doveva essere, almeno a parole, un grande esperto del paranormale? La carriera di Anusser ha una svolta dopo la tournée negli Stati Uniti del 1924. Una tournée, si dice, trionfale. La tournée conclusa però anche dal telegramma della seconda moglie, che gli chiedeva il divorzio. Tornato in Germania e guarito da una seria forma di setticemia, da quel momento in avanti, Anusser diviene una celebrità, soprattutto nell'ambito del Partito Nazionale Socialista. La seconda metà degli anni venti vede un'ascesa costante del fenomeno nazista in Germania. Dopo il mancato Putsch di Monaco, ne abbiamo già parlato in un video apposito, il Partito Nazista aveva deciso di ristrutturarsi, di abbandonare sostanzialmente l'area movimentista, quella rivoluzionaria, per diventare un partito più serio e istituzionale, con appoggi chiari e solidi, anche all'interno del tessuto economico e produttivo tedesco. E all'interno di questo tessuto si muoveva Anusser, ai suoi spettacoli, nei club piuttosto che nei piccoli teatri. Cominciarono a presentarsi tanto degli industriali, quanto dei maggiorenti del Partito Nazista, che rimanevano affascinati dalle sue capacità. Capacità che più delle volte consistevano in tentativi di ipnosi, piuttosto che in rivelazioni cioccanti o predizioni di tipo Sibillino. Ma l'atmosfera, soprattutto all'interno dei circoli nobiliari tedeschi, della seconda metà degli anni venti, era fortemente improntata alla ricerca dell'occulto. Non dimentichiamo che sono gli anni in cui si affermano in Germania alcuni circoli esoterici particolarmente potenti e influenti anche in ambito politico. Abbiamo parlato ad esempio in un altro video della cosiddetta Società di Tule. Anusen si infila in questo sottobosco e da quel momento in avanti gli viene sempre più attento e ascoltato. Lo ascoltano proprio tutti e qualcuno inizia a frequentare, anche al di fuori degli spettacoli. Anusen tra l'altro col terzo matrimonio ottiene veramente parecchi soldi, anche perché il terzo matrimonio dura appena quattro anni e la causa di divorzio gli frutta un bel capitale. Con quei soldi in piena recessione, Anusen si dà alla bella vita, organizza feste, compra uno yacht, si dà al consumo di stupefacenti, soprattutto la cocaina, organizza delle vere e proprie orge, cui partecipano i più bei nomi sia del partito nazista che dell'altra società berlinese. Uno dei suoi ospiti, ad esempio, è un nome piuttosto pesante. È il conte Wolf von Heldorf, il futuro capo della polizia di Berlì. Il conte è amico di Anusen, un po' amico di depravazione, ma soprattutto amico di soldi, perché Anusen, col suo enorme patrimonio, di volta in volta copre le cambiali del conte, che è sempre al verde. È incredibile come un nobile sia sostanzialmente spiantato, costretto a ricorrere ai pagherò e al rincorso dei creditori, mentre quello che molti definiscono un sirano giarlatano sia debordante di denaro. Eppure, questa è la situazione. Ed è proprio von Heldorf a sponsorizzare la crescita di Anusen nei circoli nazisti. Già da tempo, in realtà, qualcuno del partito nazista simpatizzava per quel personaggio così strano. Successivamente, nelle riscritture della storia che annaquano il tessuto reale del racconto storiografico, si dirà che Anusen abbia cominciato a frequentare i gerarchi nazisti già dopo le liberazioni dal calcere di Landsberg, cioè tra il 1924 e il 1925. Ma è una palla, non è vero. È vero piuttosto che in quel periodo tanto Hitler quanto altri suoi gerarchi frequentano i cabaret. Hitler però preferisce andare a Monaco. Monaco ha una vita notturna molto vivace, per iniziamo al fatto che in città il cabaret più richiesto è quello gestito da un altro ebreo, Friedrich Hollander, un cabaret in cui si fa satira politica, molto graffiante e che verrà devastato e chiuso obbligando Hollander a scappare in America all'inizio degli anni 30. Anusen invece è a Berlino e a Berlino oltre a conoscere Von Eldor conosce altri maggiorenti del partito. Conosce anche Hermann Göring che inizialmente lo favorisce e poi ne diviene uno dei maggiori nemici per non dire accusatori. Conosce anche Ernst Röhm abbiamo già incontrato anche lui il capo delle SA. Röhm che oltre ad avere una personalità molto violeta, lo sappiamo, era un omosessuale e partecipava ai festini di Anusen. Tutti e due, Röhm e Göring, sono ben introdotti nella cerca di Hitler e nel 1932 favoriscono l'incontro tra il futuro Führer e Anusen. Un incontro che diventa rivelatore, nel vero senso della parola. Anusen inizia a fare delle predizioni. In quel momento il partito nazista è in ascesa ma ancora non riesce a scondare, ancora non riesce Hitler a farsi dare l'agoniato cancellierato. Certo, i successi elettorali sono notevoli, il partito è cresciuto moltissimo negli ultimi anni, ma ancora non basta perché c'è una fortissima resistenza al centro e a destra nei confronti proprio dei nazisti. Il presidente Paul von Hindenburg è categorico, non vuole dare l'incarico a Hitler. Lo dà prima von Papen, ma von Papen non ce la fa. In realtà è tradito alle spalle dal generale von Steiker che ne prende il posto. A sua volta, von Papen tradisce von Steiker. È una lotta fra loro due e tra i due litiganti. Il codo è come sempre il terzo, ma Hitler ancora non è sicuro. Prova più e più volte varie strade per arrivare a quella poltrona. Una di queste strade è Anussa, che forte della sua aura di grande esperto dell'occulto e di sensitivo, inizia a fare delle predizioni. Predizioni che si dimostrano quanto mai accurate e ne aumentano la fama in ambito non solo nazista. Anussa comincia a dire a Hitler di non preoccuparsi, che sta arrivando il momento giusto. Non appena i più prestigiosi nomi della finanza tedesca si saranno accordati sul vostro nome, nessuno potrà impedirvi di diventare cancelliere, dice Anussa nell'estate del 32 a Hitler. Hitler, che continua a chiedere credere ad Anussa anche dopo l'esito delle elezioni del 6 novembre, che non consentono al partito nazista di prendere il potere. Anussa consiglia a Hitler di pazientare, ma che la pazienza è premiata. Dopo appena due mesi, von Schleicher cade e Hitler è il nuovo cancelliere. Da quel momento in avanti, la carriera di Anussa in seno al partito nazista sembra lacciatissima. Lo ascoltano proprio tutti, forse lo ascoltano i droghi e forse lui stesso comincia a esagerare. Alla fine del febbraio del 1933, Anussa comincia a fare delle predizioni. Nelle serate di spiritismo ospitate a casa sua in un palazzo nel centro di Berlino, Anussa inizia a parlare di marce, di torce, di sfidate e di un incendio, un incendio che divamperà fortissimo. Inizialmente si pensa che Anussa parli in maniera figurata della rivoluzione nazista o magari di una guerra in Europa. Invece no, dopo poco Anussa comincia a parlare chiaramente dell'incendio del Reichstag, incendio che ha piede, incendio che devasta l'edificio che ospita al Parlamento tedesco, incendio di cui viene accusato un comunista olandese, Marinus van der Lube, ma che, secondo gli storici, era stato architettato da Hitler e dai suoi sodali. Era il casus belli mancante per chiedere pieni poteri e trasformare dall'interno non solo la politica ma tutto lo Stato tedesco. Anussa ne parla, lo predice, con particolari anche abbastanza ghiaccianti. E forse è proprio questo che ne segna la fine. Forse Anussa era venuto a conoscenza di qualche dettaglio di cui non poteva parlare, di cui non doveva parlare né rivelare. Ma la sua voglia di accreditarsi sempre di più come grande occultista lo aveva bruciato al punto che da quel momento in avanti i suoi vecchi amici diventano i suoi peggiori nemici. Prima Goering, poi Röhm, lo mettono nel mirino. Si dice che anche Von Eldorff lo lasci al suo destino per non dovergli ridare i soldi ottenuti in precedenza per le sue cambiate. Fatto sta che il 24 marzo 1933 Anussa viene arrestato dalle SA, viene portato al comando della Gestapo a Berlino, gli viene notificata l'espulsione dal partito nazista in cui era entrato appena l'anno prima e viene torturato. Prima di essere rilasciato dopo 12 ore di violenza contigua, Anussa riceve un altro colpo, la notifica del sequestro di tutti i suoi beni, beni che includono anche le cambiari. E allora forse qui Anussa capisce di essere arrivato alla fine del suo percorso. Non ha più in mano né amicizie né armi di ricatto. Anche perché il giorno dopo un'altra squadra delle SA lo arresta di nuovo. Questa volta l'accusa è molto più grave. L'accusa è quella di essere un ebreo infiltrato nel partito nazista. Com'è possibile? Secondo gli storici, a tradire in questo caso Anussa serve stato il suo ex segretario Ernst Yung che era stato licenziato da Anussa per motivi di soldi. Yung che tra l'altro non condivideva diverse scelte di Anussa aveva deciso di vendicarsi a modo suo. Aveva penduto alla stappa d'opposizione alcuni documenti riguardanti Anussa. Non solo i certificati di proprietà acquisiti di varie società e dello yacht soprattutto il certificato di nascita le pagelle a scuola e le pronunce di divorzio. Documenti in cui si riportava la fede ebraica di Anussa. Da quel motivo era scaturita la possibilità di far fuori Anussa. Quindi era stato il casus belli necessario a Göring e a Röhm per eliminare un elemento davvero scopo. Come dicevamo il 25 marzo del 33 arriva il secondo arresto per Anussa. L'arresto fatale. Questa volta non viene portato né al comando della Gestapo né in carcere. Viene caricato su un'avventura lungo il viaggio viene picchiato e poi lungo l'autostrada che porta a Breslavia. Tre membri della SA gli sparano a bruciapelo in testa e scaricano il cadavere a bordo strada in un fossato. Così muore Erich Jan Anusson. Così muore l'occultista di Hitler. In realtà il suo decesso non viene denunciato immediatamente. Il corpo viene rinvenuto un mese e mezzo dopo nell'aprile del 33. In avanzato stato di decomposizione e tra l'altro brutto anche di mutilazioni forse effettuate dalle stesse SA o forse frutto dell'intervento di animali selvatici accorsi alla vista del cadavere. La stessa notizia della morte viene data in sordina. Viene prima di tutto detto che un cadavere viene ritrovato rivelato di proiettili a bordo dell'autostrada ma un cadavere conosciuto. Solo dopo un po', dopo un paio di giorni si ammette che sì quel corpo era di Erich Jan Anusson. E Beffa delle Beffe la cerimonia religiosa di inumazione non avviene né con rito ebraico né con rito protestante ma con rito cattolico. Sembra quasi una sorta di Beffa finale per un uomo che ha rinagato in vita le proprie origini il proprio nome il proprio retaggio un uomo che si era dedicato a illudere gli altri raccontando delle storie più o meno verosimili ricavando sempre solo un grande profitto un uomo che si era appiccinato così tanto al potere da restarne bruciato come Icaro e le sue ali che si era avvicinate troppo al sole. La figura di Anusson ricorda un po' quella di Grigori Yefimovic Rasputin ed effettivamente tutti i contatti sono molti tra i due occultisti. Le testimonianze successive alla sua morte che parlano di predizioni estremamente accurate addirittura riguardanti la morte di Stalin o l'ingresso in guerra degli Stati Uniti o la rovina dell'industria tedesca restano nella storia ma restano anche nel mistero e nella leggenda. quanto Anusson sapeva e quanto in realtà intuiva chi erano gli informatori di Anusson dove attingeva le notizie che mescolava poi un sincretismo tra riti pagani visioni mistiche e nomi occulti chi lo sa certo che quello che fa un po' sorridere tutta questa vicenda così oscura e così difficile è il tentativo di Anusson di riconciliarsi con il suo segretario con Jun pochi giorni prima di morire quasi all'oscuro di essere stato tradito proprio dal suo ex dipendente Anusson aveva provato in ogni modo a ricucire e in quella lettera pare esserci l'ultima profezia di Anusson la Kristallnacht il grande pogrom contro gli ebrei del 1938 e anche qui noi ci domandiamo ma Anusson davvero vedeva il futuro o riusciva solo tramite molte suggestioni e un sapiente utilizzo della lingua parlata a dare l'impressione di predire il domani non lo sapremo mai ma la sua figura resta oggi avvolta nelle pieghe della storia ma anche in quelle del mistero